Salve a tutti. Allora, voglio fare una piccola riflessione sui dati che ieri la protezione civile ha rilasciato riguardo il coronavirus. Allora, effettivamente la notizia è ovviamente ottima, cioè, o meglio, ottima, buona ma non ottima, no? I contagi effettivamente si sono molto 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 abbassati, solo che il problema è che non è che si sono abbassati così tanto. Cioè, sembrerebbe che la protezione civile comunichi i suoi stessi dati con delle mezze verità, ovvero, cioè non è che pubblica dati falsi, no? Si parla di dati che la stessa pubblica, solo che se andate sul sito della protezione civile dove ci sono dei comunicati stampa, praticamente non è chiarissimo quello che viene detto. Ok? Allora, il fatto che ieri ci sono state 300 nuovi contagiati, no? Numero bassissimo, in realtà non significa questo. Cioè, se uno vede il numero totale dei positivi di ieri rispetto al numero totale dei positivi di avanti ieri, ce ne sono 300 in più. Ovvero, bisogna, per sapere quante persone effettivamente sono risultate positive in più rispetto ad avanti ieri, bisogna in realtà aggiungere, in realtà, il numero dei guariti, che per fortuna è molto più alto rispetto ai giorni passati. Ok, il numero dei guariti sta aumentando, da quello che ho capito, quindi 2500 persone. Poi, il numero dei morti, sì, ma che sta diminuendo? Non sto facendo agliarmismo, eh? Quindi più di 500 persone, quindi in totale, per questo si sa che praticamente circa... 3.000 persone, 3.500 persone quasi, si sono presi il coronavirus. Solo che, se togliamo i morti, togliamo i guariti, sono solo 300 in più. Che non è una cosa brutta. Però, dire che soltanto 300 persone, solo 300 persone, sono positive in più rispetto ad avanti ieri, fra ieri e avanti ieri, perché i dati di oggi non li avevano ancora trovati, è una mezza verità. Ok? Quindi, no, veramente, adesso io, boh, non ho niente il tempo di andare a fare un'indagine su tutti i dati di ogni giorno, da quando c'è stato un cavolo di contagio in Italia. Non ne ho idea. Però, effettivamente, rendiamoci conto. Chissà quanti erano, cioè, se ci hanno detto fino ad ora, no, 5.000 contagiati oggi, no, per dire... Evidentemente erano molti di più, cioè, se erano riferite alle notizie confritte, con coerenza... Se lo hanno riferito con coerenza, allora devo pensare, quando ci hanno detto che era 5.000, bisognava aggiungere a quei 5.000, sia i decessi che i guariti, per sapere quanta persone si erano prese il coronavirus. Justo questo ti dico perché, vuoi capire, ma io quanto rischio oggi di prendermi il coronavirus, no? Quando è che possiamo stare tranquilli, che uscendo di casa non ci becchiamo il virus? Ecco, perché io di casa non sto uscendo da un mese, tranne per buttare la spazzatura. Perché dove vivo adesso non fanno il riporto a porta. Però è che costretto andare anche al negozio, che a me la spesa la portano a casa, fortunatamente, anche se mi devo accontentare di quello che riesco a comprarmi. Eh, voglio dire, voglio dire, voglio dire. Significa che evidentemente tante tante persone, comunque, si stanno contagiando. Non so come, evidentemente uscendo per fare la spesa o andando a lavorare, o quelli che trasgrediscono l'ordinanza. E quindi magari la situazione non è così rosea, tra virgolette. Cioè non è rosea per anche per il cazzo, cioè stanno morendo delle persone. E chi non sta morendo sta male. Effettivamente, no? Per cui, niente, vedremo i dati tipo di oggi. Non so di fare questa piccola riflessione, nulla di che. Perché effettivamente io mi sono chiesto come cavolo è che io ero convinto che i dati erano quelli alti, invece avevano dati ben più alti, ben più, insomma, 3500 persone contagiate non sono 300, sono 10 volte di più. Tutto qui è il discorso. Vi saluto, alla prossima. Grazie. Grazie.